La storia, trama ed anticipazioni della nuova fiction Rai Tra le fiction della Rai che sbarcheranno nel corso della programmazione autunnale, c'è la storia, tratto dal romanzo di Elsa Morante. Al centro dell'attenzione ci sono le storie tragiche di Ida Ramundo, e della sua famiglia, che vengono raccontate seguendo pedissequamente le vicende raccontate nel romanzo. La storia, la trama della nuova fiction Rai La storia è la fiction Rai tratta dall'omonimo romanzo di Elsa Morante. Le vicende sono ambientate nel 1941. La protagonista è Ida Ramundo, vedova e madre di Nino. In un qualsiasi giorno normale, la donna viene aggredita da un soldato dell'esercito tedesco, che si approfitta di lei non conoscendo le sue origini ebraiche. Per Ida si tratta di una cicatrice difficile da dimenticare, e di un dolore ingestibile. Ma la sofferenza aumenta quando poco tempo dopo la donna scopre di essere incinta. Successivamente Ida dà alla luce un bambino che decide di chiamare Euseppe. L'intera famiglia viene stravolta dagli eventi della guerra, soprattutto quando Nino decide di partire per il fronte, schierandosi dalla parte dei fascisti. Ida rimane da sola con il suo figlioletto appena nato ad affrontare l'occupazione nazista, e poi i rastrellamenti negli appartamenti del quartiere San Lorenzo di Roma. Ida soffre ed è lasciata completamente da sola, ma nel 1943 la sua situazione peggiora ulteriormente. Un bombardamento le fa perdere tutto, la sua casa, le persone che conosceva e tutti i suoi punti di riferimento. Ida diventa una sfollata e da quel momento diventa una lotta per la sopravvivenza, per lei e per il piccolo Euseppe. Ida è pronta a tutto per far stare bene il suo amato bambino, e per superare questo periodo così difficile della guerra. Deve però fare i conti con tutto il male che ha vissuto, e con la consapevolezza che suo figlio Nino combatte al fronte. La storia, il cast è quando inizia la fiction rai. Nella storia, la regista è Francesca Archibugi, mentre tra gli attori ci sono alcuni volti già molto noti al pubblico. Ad interpretare la protagonista Ida Ramundo è infatti Yasmin Trinca. Nel cast troviamo anche Asia Argento, Francesco Zenga, Elio Germano e Valerio Mastandrea. Per quanto riguarda la data di messa in onda, ormai è tutto pronto poiché le riprese sono iniziate nella primavera del 2022 e, dopo vari slittamenti, sono giunte al termine. Per questo motivo la fiction potrebbe andare in onda già nel corso dei primi mesi autunnali, e dentro la fine del 2023. Sugli altri dettagli della fiction vige il massimo riserbo, almeno finora. Infatti non è stato chiarito di quante puntate sarà composta la fiction, e se è prevista un'unica stagione in cui si concluderà la storia. Certamente nel corso delle prossime settimane, inizieranno gli spot pubblicitari per le fiction autunnali, e di conseguenza emergeranno ulteriori dettagli. Voi che cosa ne pensate? Vi sembra interessante questa fiction tratta dal romanzo di Elsa Morante, e credete che la seguirete? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Ciao! 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 Ciao!